Un inizio di sfilata oggi non certo dei migliori. Il tragico incidente della scorsa notte in cui ha perso la vita il giovanissimo Vincenzo Soldano ha scosso l'intera comunità. Alla riunione questa mattina al Comune per decidere come affrontare il tragico evento in pieno carnevale c'erano anche i carristi delle associazioni culturali che hanno realizzato i carri allegorici. Noi siamo addolorati e ci stringiamo a quello che è il dolore della famiglia e giustamente è andato un po' a stravolgere l'atmosfera che si stava preparando. Io vengo infatti dalla riunione e siamo in Comune accordo che si farà una manifestazione iniziale davanti al Peppe Nappa concordato con tutte le associazioni con il minuto di silenzio e ricordo del caro Vincenzo. E poi durante la sfilata ci sarà una normalità più assoluta e sul palco credo che ci sia un altro punto nel ricordo del giovane con il minuto di silenzio. Ovunque noi siamo spegneremo sicuramente l'amplificazione, le luci, quello che è nel suo ricordo. È stata presa in considerazione l'ipotesi di annullare tutto o no? Ma guarda, questo poi andiamo molto sul tecnico, quindi purtroppo c'è stato anche un precedente due anni fa, quindi noi non eravamo presenti e non sapevamo come gestire la cosa. Chi era presente nel 2016 un po' ci ha indirizzato nello svolgimento in maniera analoga. Si poteva anche pensare questo, però capiamo che già siamo a sabato, una manifestazione è una macchina organizzativa che è già partita. Siete pronti per questo inizio di sfilata che non sarà tanto allegro quanto ci si aspettava? Purtroppo sì, neanche noi, non si aspetta mai nessuno una cosa di questa. Dei giorni che ci dovevamo divertire purtroppo ci hanno un po' storditi. È la seconda volta che capo in questo periodo di carnavale. Non c'è niente da dire. L'unica cosa si può dare è dire ai ragazzi di stare sempre attenti con il motore, soprattutto a carnavali non bere, divertirsi. Non si può divertire senza bere, senza correre con il motore. Sono dei ragazzi che non dovrebbero succedere purtroppo. Purtroppo sì, sono cose che ci dispiacciono. Conoscevo anche il ragazzo, quindi non ci sono parole. Momenti dedicati per i carristi alle prese con l'ultimi accorgimenti prima della partenza di questa sera. Alcune opere in cartapesta sono già complete, altre ancora in fase di montaggio. Noi siamo ancora in fase di assemblaggio perché c'è un forte vento per la sicurezza. Ieri sera un po' di pioggia ci ha, è un po' bloccato, però stiamo cercando di completare il più possibile per iniziare. Sarete pronti questa sera? Faremo di tutto per essere pronti. È il nostro obbligo, ripeto, il vento e la pioggia di questi giorni ci ha un po' limitato, però tra l'altro siamo gli ultimi a sfilare e cercheremo di essere più pronti possibili. Quasi ultimata la fase di montaggio? Sì, stiamo arrivando, stiamo finendo tutto, stiamo ultimando gli ultimi dettagli, ma siamo pronti. Stiamo terminando con gli ultimi accorgimenti e siamo pronti per la sfilata.